In pochi mesi 700 ragazzi del nostro territorio hanno avuto la possibilità di accedere a una consulenza psicologica che è diversa da ciò che viene già erogato dai servizi sociali e sanitari del nostro territorio legata alle difficoltà che sono emerse durante e dopo il periodo della pandemia. Si potrà chiedere fino al 30 novembre di accedere al progetto di supporto realizzato dalla Regione investimento 300.000 euro con la collaborazione dell'ARDIS e dell'Ordine degli Psicologi per venire in conto agli studenti delle medie e delle superiori alle prese con le problematiche causate dalla pandemia. Un percorso di 5 sedute per ogni ragazzo che ne faccia richiesta dal costo per le famiglie di 5 euro l'una. Stamani in Regione si è fatto il punto sull'iniziativa fornendo alcuni dati abbastanza significativi. Detto che ad inviare la richiesta sono state più ragazze che ragazzi, il 76% contro il 24%, la fascia d'età più rappresentata è quella dai 14 ai 16 anni, il 41%. Le scuole superiori fanno la parte delle ONE, il 65%, 702 le domande pervenute e 631 quelle ancora accoglibili. Il problema maggiormente rappresentato è quello dell'ansia generazionale, 56%, seguito in pratica con la stessa percentuale da problematiche relazionali, isolamento sociale, difficoltà in ambito scolastico. In percentuale, rispetto alle domande già evase, l'iniziativa ha riscontrato maggiore successo a Trieste.